I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow. La proposta di Rockwell Automation ad SPS è ovviamente legata al concetto di digital transformation. Stiamo presentando la Factory Talk Innovation Suite, che è una proposta integrata di soluzioni con il nostro partner PTC, che copre dal mondo dell'Information Technology verso l'area dell'Operation Technology tutta la filiera, comprendendo anche poi tutta l'intera catena di valore di produzione del prodotto barra servizio. In particolare stiamo proponendo un'integrazione tra software PLM e software CAD con soluzioni di virtual commissioning come Emulate 3D, una recente acquisizione di Rockwell, utilizzando poi soluzioni di realtà aumentata come Wuforia e di IoT come Teamworks. Il tutto poi è corroborato ovviamente dalle solite soluzioni ormai tradizionali di meccatronica, abbiamo soluzioni nuove per quanto riguarda l'iTrack, quindi la tecnologia a carrelli indipendenti, soluzioni small frame, presentiamo MagneMotion che sono dei nastri intelligenti per quanto riguarda la logistica digitalizzata, chiamiamola così. Abbiamo poi soluzioni più legate al mondo software che si lega alla parte di progettazione e ingegnerizzazione che citavo prima con Studio 5000 che si arricchisce con Application Code Manager di soluzioni di programmazione ad oggetti. Citerei ancora poi Team Manager che è una soluzione di mobilità del dato e di contestualizzazione del dato. Insomma una suite abbastanza completa tra prodotti hardware e prodotti software che crediamo possa essere il giusto viatico per un cliente che voglia intraprendere il viaggio della trasformazione digitale per cui Roque si propone come partner ideale.